Grappa dall'ultimo round in National League, settima in classifica, con obiettivo qualificazione alla fase finale, passando e puntando su tre successi e sperando in qualche passo falso delle avversarie. Prima di tutte la Serbia, avanti nella corsa verso la Final Six di Lille. Cinque si qualifichano più la Francia e dunque è l'ultima speranza per l'Italia di Gian Lorenzo Blengini, la tappa più importante, quella italiana, nel tempio del volley al palapanini. Di fronte tre corazzate già dentro alla fase finale, Francia-Stati Uniti è la prima ad affrontare la Russia campione d'Europa. Sarà tutta esaurita a Modena per questa Italia, senza Osmani Vantorena, ma con il suo capitano rientrato dopo le vacanze, Ivan Zaitsev. Per lo ZA sarà la prima davanti ai suoi nuovi tifosi dopo lo scudetto a Perugia. Modena lo aspetta, come aspetta una grande prova degli azzurri in questa National League di alti e bassi, con un percorso previsto dal CT, che ha dovuto sperimentare e far girare gli azzurri, sempre pensando all'appuntamento più importante della stagione, il Mondiale in Italia, al via il 9 settembre.